In realtà non vuole, non vuole permetterci No, tu devi così, guarda, questo braccio deve uscire qui Ma con due braccia, ti vuoi Ma no, tu non puoi rimanere su, guarda, è ancora un nuovo Ma no, lì, 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 lì Vai giù, vai giù Vedi, controllo, senti, e anche questo Vado giù, e poi giro il tuo braccio L'importante è non... Funciona? Si, si, funziona, funziona, funziona Ma non credo Si, funziona, funziona Non credo Ora faccio così E questo prende il fogone Da, non c'è Braccio a destra Entra dentro Qua E io sono scoprati Io scopro tuo... Qua, tuo polso Io scopro tu E io scopro tu Ah, funziona anche così Aspetta Aspetta Entra questo profondo Di più Entra con... No, con questo entra completamente Con questo Ancora, ancora, ancora Non è più Oh, ok, ok Oh, capito? Oh, capito? Oh, sopra mio gommi No, ma così fosse Guarda Così E poi usi Sopra Prese di corpo Funciona Su... Su... Probabilmente Pro... Pro io Questo tipo Posso mai mettere Questo così E poi appoggiarsi con il corpo così Prova Ma... Quando ha detto Etają Ma, lui, come non-tanto Mh... Ma lui... Come non-tanto Ehm 等... ma tu senti dolore tu senti qui il 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 si stavola traggio dentro sinistra vedi dove va vedi dove va sinistra un'attività vedete dentro e sinistra dentro sinistra nel sinistra interale bene controllo controllo va qui questo è importantissimo il braccio che sta vicino a terra dove va vedi braccio vicino a terra provo io qua la gamba prima prima qui 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 così però si può basta chiudere bene qui 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 qui